Maltrattamenti in famiglia, Carabinieri di Soverato arrestano 38enne. Durante i controlli, al fine di garantire a tutti un'estate sicura, i Carabinieri di Soverato hanno proceduto anche all'arresto di un uomo di 38 anni. I militari della stazione Carabinieri di Gasperina, dopo aver ricostruito un'intricatissima vicenda di violenza domestica, le cui risultanze investigative sono state condivise e approfondite dall'autorità giudiziaria, hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Tribunale di Catanzaro, per il reato di maltrattamenti in famiglia, poiché con condotte abituali e reterate maltrattava la compagna convivente, vessandola psicologicamente mediante ossessive accuse di tradimenti, isolandola dalla famiglia di origine, percuotendola in modo violento e minacciandola. Tutti i fatti occorsi nella notte tra l'8 e il 9 agosto scorso, L'uomo è stato arrestato e tradotto presso la casa circondariale di Catanzaro Siano.